Intanto Nikolic che attacca il ferro appoggia male, chiama un fallo ma non chiamato dagli arbitri, palla intercettata da Taylor e subito contropiede Marco Vla... scusa, Vlajan che... Palla Francesco Veri si va sotto da Juho James anche in questo caso, la strategia è molto chiara, bellissimo un passaggio fuori per Titicnik, tiro da tre ed ecco la triple! Tanto qua si cerca ancora di giocare vicino al ferro, Alex Martino si avvicina per il treo della mezza, butta dentro anche questo... Rimbalzo di Rauk, siamo subito di là, Henderson che va fino in fondo e segue, lo ferma Obi, alla fine la palla va sotto per James... E si prega, bello, si gira benissimo, appoggia altri due punti, la sua torna sopra di 14 lunghezze... Guarda che arriva Obi-Kovac... Guarda completamente sbilanciata, tutti fuori posizione, al fine quando un tiro può forzare Obi-Kovac e poi Nikolic che va a conquistarsi... Dule che esce dal blocco velocemente, poi cerca ancora Nikolic, pick and roll... Adesso attacca lì nel fondo e poi trova la rollata di Uros centralmente... Oh bellissimo assist di Uros Nikolic sul taglio... Martino... Il passaggio lo trova... James in qualche maniera... Speriamo davvero che l'abbiamo fatto sul playoff... Penso che sia zero, però non sono sicuro di questa cosa... Ecco qua... Tir di Schnick... Lo stesso plus... Che riesce in qualche maniera a ritornare, alla fine non riesce a recuperarla... Palla che arriva Uros Nikolic va fino in fondo... Ed è in buono... Martino che adesso si trova di fronte... Una zona 2-3... Ed è ovvio subito il primo pallone... Bruta lettura... Passaggio un po' pigro... Post alto... Nikolic... Intanto ci siamo persi un po' la partita... Ci scusiamo... La Samp che è sopra di 33 lunghezze... Oramai... Più una questione amministrativa... Capire chi becherà Spinali Massagno... E intanto qua... Bella... Palla che gira... Si va da Rauco sotto Canestro... Uno contro uno contro Tanazkovic... Buona difesa di Ivan... L'obbliga un tiro difficile... Rauco riesce comunque... A destreggiarsi... Con un mezzo gancio... Trova altri due punti... Guardo la classifica aggiornata... Starwings... Monté Boncourt... Tutti con 9 vittorie... 18 sconfitte... Quando si ha 3... In realtà... Boncourt rimane fuori dai play-off... Un po' forse a sorpresa... Eurostep... 20 minuti di gioco tra l'altro... Palla plus... Bella giocata... Bella intesa... Bella... L'incrocio dovrebbe essere... L'accoppiamento... Friborgo... Monté... Spinelli Massagno... Starwings... Union Châtel... Contro... Nyon...